Ben ritrovati ragazzi al vostro Pentitus, siamo tornati nuovamente a parlare di derivate Ubuntu. Questa volta continuiamo le derivate di Ubuntu 24.04 LTS e ci concentreremo, come potete notare anche dallo sfondo alle mie spalle, ma anche dall'icona in alto a sinistra, il nostro bel pulcino che sta ad indicare Ubuntu Bugi. Ma come si presenta questa derivata di Ubuntu? Ebbene, prima di iniziare, spazio la sigla. Ed eccoci qui, tornati a parlare di Ubuntu Bugi. Bugi Desktop è un desktop fortemente evoluto dal team di Solus, una distribuzione che purtroppo non è stata molto fortunata nel corso del tempo, in quanto i suoi sviluppatori hanno incontrato dei problemi nel corso della loro storia, e quindi è stato un progetto un attimo lasciato in sospeso. Ed è qui che Ubuntu ha voluto prendere in considerazione questo desktop environment davvero carino, particolare, questo Bugi Desktop, che altro non è che un alleggerimento e un'ottimizzazione di una GNOME. Con, è vero, alcune limitazioni, ma gli accorgimenti che ha applicato Ubuntu su questa versione sicuramente sono apprezzabili. E ora li vedremo insieme. Innanzitutto, installiamo subito il nostro comando NeoFetch, per vedere sempre quelle che sono un attimo le caratteristiche della nostra distribuzione. Come potete vedere, il gestore finestre sicuramente è lo stesso identico che si rifà a GNOME. Eccolo qui. Infatti, vedete, è Matter. Proprio stesso identico gestore finestre. Il kernel, vabbè, diciamo, è lo stesso identico di Ubuntu, chiaramente 24.04 LTS, quindi lo stesso di tutte le altre derivate, quindi abbastanza recente, vedete che abbiamo la presenza anche qui di pacchetti in formato SNAP. Anche qui è presente, chiaramente, l'ecosistema SNAP, perché tenete presente che, essendo una derivata diretta di Ubuntu, se siete avversi con l'ecosistema SNAP, allora non fa al caso vostro, ma altrimenti, se non vi interessa questo aspetto e comunque volete avere una distribuzione solida e al tempo stesso anche con un ottimo supporto hardware, allora in questo caso potrebbe fare al caso vostro anche questa distribuzione. Vedete la memoria utilizzata, la RAM, è da notare che stiamo al di sotto di un giga, quindi qualcosina, qualcosina leggermente meglio di GNOME, ma pressoché molto, molto simile. Abbiamo una personalizzazione del tema applicata, vedete che il tema che viene utilizzato è il pocillo TARC, o pozzillo, pocillo, non lo so, come lo volete chiamare, appunto. Questo è un tema abbastanza particolare. Un altro aspetto interessante è che sono state abilitate anche quelle che sono la gestione del desktop. Vedete che si può tranquillamente selezionare, aggiungere icone e cartelle all'interno del desktop Bougie, che diciamo era sempre e solitamente una limitazione, eccetto Solus, però quando installavo questo DE su altre distribuzioni, ecco, diciamo non veniva proprio l'installazione in maniera eccellente, ecco, bisognava poi successivamente all'installazione del desktop, doveva, bisognava installare ulteriori applicazioni per rendere più completo il tutto, ecco, non veniva il tutto in maniera automatizzata e semplice. Quindi hanno semplificato sicuramente il team di Ubuntu Bougie, quindi questo aspetto chiuso, questo discorso, vediamo un attimo le applicazioni, le applicazioni Snap presenti, sono sempre le medesime, soltanto che abbiamo in aggiunta Ubuntu Bougie Welcome, che lo abbiamo qui presente, e vedremo anche insieme come si presenta, Thunderbird, anche qui presente, lo stesso che troviamo anche su Ubuntu tradizionale, su Kubuntu è presente anche Thunderbird versione Snap, a parte l'ecosistema SnapID, abbiamo anche le integrazioni del desktop SnapID, SnapStore, anche qui abbiamo, SnapStore non abbiamo Discovery, abbiamo direttamente lo store di Canonical, Core 22, Firefox e anche Gnome, perché chiaramente abbiamo detto che questa interfaccia si basa molto su Gnome. Il menu, eccolo qui come si presenta, classico menu di Bougie, vedete che sono disposte per icone, io lo gradisco molto questa tipologia di menu, vedete che si può con, facendo col mouse, con la rotellina, oppure con il vostro touchpad, da destra verso sinistra, si può cambiare pagina, oppure cliccando direttamente sul pallino, si può cambiare tranquillamente. E qui ci sono tutte le applicazioni, le possiamo mostrare sia per icona, ma anche per categoria, anche qui potremmo fare ulteriori personalizzazioni, su questo menu ad esempio, passando il mouse sulla categoria, ci scrolla in automatico, vedete, controllo della finestra Schalfer, accesso universale, però adesso mi concentrerei, nella fattispecie, sull'App Center, che è lo stesso identico di Ubuntu, quindi scritto in Rust da Canonical, eccolo qui, quindi molto sicuramente, qui avrete soltanto a disposizione, applicazioni in formato snap, se ne cercate una, proviamo, vediamo un attimo la versione, abbiamo le immagini, ma molto probabilmente, questa è una versione, che fa parte appunto, del canale, latest, candidate, beta, edge, sono tutti canali presenti, nello snap store, quindi, molto probabilmente, stiamo parlando sempre, di pacchetti snap, così, stessa identica cosa, anche per le altre applicazioni, da questo, da questo, store, non è possibile gestire, a differenza di discovery, le app, flat pack, quindi questa è, una mancanza, non è possibile, installare, file, deb, ed è un'altra mancanza, vediamo se hanno installato, vediamo, sì, ecco, questo è un valore aggiunto, perché, l'installatore pacchetto gdb, è molto importante, se voi appunto, volete installare, pacchetti esterni, dallo store, comunque, come giusto che sia, mi viene da pensare, una chrome, ebbene, con questo, siete a cavallo, potete tranquillamente, farlo in maniera, molto semplice, e veloce, qui non si può fare, assolutamente nulla, qui potete gestire, più che altro, le applicazioni di sistema, in formato snap, e installare, ulteriori applicazioni, in formato snap, detto questo, abbiamo detto un po' tutto, di questo, app center, per il resto, vedete abbiamo, bugi welcome, che se ci clicchiamo su, vedete che ci viene fatta, un'introduzione, anche qui, ci vengono date, altre caratteristiche, è in inglese, non è in italiano, quindi, dispiace un po' questa cosa, della lingua, ovviamente, qui c'è uno store online, una community, se vogliamo partecipare, come sviluppatori, in maniera attiva, ed altre cose, interessanti, vedete, qui possiamo installare, altro software, che ci viene consigliato, come bugi extras, gli extras, bugi appunto, sono applet, che vengono applicati, su questa interfaccia, dei bugi desktop, e ve li mette, in maniera comoda, comodo, e quindi, questo potrebbe essere, anche, un valore aggiunto, a questa distribuzione, vedete, ad esempio, prendiamone, un a caso, vediamo questo qui, del calendario, proviamo a installarlo, però, ovviamente, ci chiede di fare, log out, login, per vedere, le modifiche, ma comunque, qui lo status, si sta vedendo appunto, l'installazione, che sta eseguendo, e vedete, che è la terminata, ovviamente, non, non la possiamo, ancora visualizzare, proviamo a fare, log out, e da notare anche, che il gestore, di login, è il classico, light dm, non abbiamo, invece, il gdm3, questo è, è un altro valore aggiunto, perché ci va, a snellire, notevolmente, il sistema, molto probabilmente, quello che ci ha giunto, lasciamo stare qui, corde in seguito, lasciamo stare gli aggiornamenti, torniamo di nuovo, su bugi welcome, torniamo, su, installa software, andiamo a ingrandire un po', in maniera decente, questa finestra, poi abbiamo le raccomandazioni, ovviamente, ci consiglia, di installarci il firewall, per una questione di sicurezza, anche qui, per andare, ad aggiornare, quello che è il firmware, della nostra macchina, nemo, preview, nemo share, nemo terminal, backup, snap application, qui ci dice, che è già tutto installato, è configurato, configurato, proviamo ad installare, il terminal, il firewall, vedete che anche qui, ci da, vedete, il task, attivo, dell'installazione del firewall, torniamo indietro, nel frattempo, lui sta lavorando, vedete che ha finito, l'installazione del firewall, ciò significa, che se andiamo al firewall, dovremmo trovarlo, eccolo qui, devo dire che comunque, abbastanza fluida, questa interfaccia, ed ecco che attiviamo, il firewall, del classico, GNU, W, F, V, recommendation, l'abbiamo già visto insieme, vediamo un'altra sezione, software center, e ovviamente ci apre, l'app center di Ubuntu, e poi il gaming, è interessante anche questa pagina, perché ci permette di avere, delle gallerie, complete di giochi, dal lato retro, ma anche, altri giochi per pc, come ad esempio, Steam, Lutris, o altre, abbiamo anche, dei tool, collegati, per giocare, ad esempio, OBS studio, ci viene messo qui, se giustamente facciamo, delle sessioni live, qui per vedere, anche l'uso, del nostro pc, anche se vogliamo controllare, la gestione, dei led, se abbiamo dei led presenti, anche qui, insomma, delle chicche, e poi, ovviamente, abbiamo proprio una lista, di giochi, dove, ovviamente, si rifà sempre, a Steam, qui invece, dove andiamo, su, makeover layout, qui, in questo caso, andiamo completamente, a ristabilire, un attimo, quella che è l'interfaccia, vedeteci, quello che abbiamo adesso, Arc Design, poi abbiamo Colloid, poi abbiamo Fluent, poi abbiamo Material, Design, abbiamo Orkis, Posillo, Moiv, quindi molto simile, sicuramente a Mac, Orkis, Fugir, Bugir, White Sur, sempre, genere Mac, proviamo, ad applicare, questo qui, genere Mac, White Sur, install, ovviamente, ci chiede, di installare, repository, terze parti, per questo tipo, di installazione, vediamo cosa succede, anche qui, vedete, ci sta applicando il tema, lo scarica, e al tempo stesso, dovrebbe applicarlo, in maniera automatizzata, quindi, ecco, questi processi, sicuramente, possono essere un valore aggiunto, per questa, distribuzione, per chi è amante, di questo, di E, sicuramente, Ubuntu Bugi, potrebbe essere, la soluzione, ottimale, visto che comunque, il progetto Solus, è rimasto, tra virgolette, un po' congelato, se, volete continuare, sotto questo aspetto, Ubuntu Bugi, potrebbe essere, la soluzione giusta, nel frattempo, che lui finisce, di farci, la nostra installazione, vediamo un po', quelle che sono, le applicazioni, ovviamente, avendo, ereditato, Gnome, è chiaro, che troviamo, anche l'account, online, quindi, sicuramente, andremo a, infatti, queste sono, nient'altro, che le impostazioni, dell'account, online, di Gnome, dove vi potete collegare, a tutti i vostri, ecco, che ci ha, anche applicato, anzi, ci ha scaricato il tema, adesso, applichiamolo, e vedete, come ci cambia il tutto, in un attimo, cambiate, icone, infatti, vedete qui, come ci ha cambiato, anche l'icone, vedete, possiamo applicare, anche i font, ok, vediamo se vogliamo tornare, tutto come prima, e infatti, ci è, ritornato, tutto come era, in principio, stavamo vedendo, appunto, anche qui, desktop layout, allora, qui per quanto riguarda i temi, qui invece, per quanto riguarda il layout, classico Ubuntu bugie, Redmond, se vogliamo spostare, vedete, ecco qui, è un po' più veloce, perché non deve scaricare nulla, però vedete che vi imposta, in basso, traditional bugie, questo qui, chrome, traditional bugie, cupertino, anche qui, ricorda molto, sembra stile Mac, si applichiamo, cupertino, e andiamo anche, qui, andiamo ad applicare, divertiamoci un attimo, va, proviamo a fare, però in questo caso, non ci viene applicata, la funzionalità desiderata, o che importa, la fine era solo una dimostrazione, lasciamo tutto come era prima, anche qui, applichiamo tutto come era prima, ed usciamo da questa sezione, che devo dire, è abbastanza interessante, questo bugie welcome, può davvero guidare, molti utenti, inesperti, qui abbiamo il classico Raven, di bugie, dove abbiamo tutte le nostre notifiche, e i widget del caso, ovviamente, è abilitato, di predefinito, plank, come doc, una fidabilissima, plank, mentre qui invece, vediamo un attimo, gestore file, dopo aver visto il gestore file, vedete che qui possiamo vedere anche, gestire i nostri aggiornamenti software, l'analisi del datore del disco, applicazioni d'avvio, backup, che sono un po' tutte applicazioni ereditate, sempre da GNOME, come abbiamo detto, c'è bugie control center, dove qui possiamo andare, altro non sono che un po' le impostazioni di GNOME, in maniera un po' semplificata, vedete audio, energia, a schermi, utenti, accesso universale, e così via, qui invece c'è una delle caratteristiche tipiche per i rasperry, anche questo è interessante, rifacimenti e layout, bugie extras, bugie discourse, andiamo un attimo, questo l'abbiamo già visto prima, quindi possiamo tralasciare, sia bugie discourse che extras, li abbiamo visti nella welcome, anche qui abbiamo delle applicazioni per i podcast, addirittura, vedete, i client mozilla, come vi ho già detto prima, gestore file, fireroller, firefox, ovviamente sempre in formato snap, l'abbiamo detto prima, mentre per quanto riguarda LibreOffice, è la versione dei repository ufficiali, non formato snap, quindi ci sta bene questo, installatore pacchetto GDB, non dobbiamo nemmeno trascurarlo, è un aspetto importante, abbiamo riproduttore di file, gestione a schermata d'accesso, sorgenti software, qualche giochino, come abbiamo detto la Plank, riproduttore multimediale, Lollipop, ecco queste sono un po' tutte le applicazioni, applicazioni, come terminale hanno voluto utilizzare questo Tilix, spero di averlo produttosto bene, Tilix, esatto, terminale abbastanza semplice, intuitivo, beh, che dire, abbiamo detto un po' tutto, di questa distribuzione, fatemi sapere anche voi, cosa ne pensate, non solo di Ubuntu Buji, ma proprio del desktop anche Buji, se vi aggrada, vi piace, quali sono le sue lacune, fatemi sapere sempre con i vostri commenti, e vi aspetto, per ulteriori contenuti, sempre qui nel nostro canale, alla prossima, ciao!